I carabinieri del comando provinciale di Viterbo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DIA che dispone l'arresto di 13 persone, tutte indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Numerose le perquisizioni. L'operazione ha delineato l'esistenza di un'organizzazione dai connotati mafiosi dedita principalmente a imporre il proprio controllo su attività economiche come negozi per la vendita di gioielli usati, i cosiddetti comprooro, locali notturni, ditte di trasloco e altre attività come il recupero crediti nella provincia di Viterbo. Un articolato sudalizio criminale collegato ad ambienti dell'Andrangheta che si era imposto a Viterbo e provincia attraverso una serie di aggressioni e gravi atti intimidatori anche con auto dei carabinieri date alle fiamme esercitando un'azione di controllo su tutto il territorio.